Conoscenze, competenze, esperienze. Siamo mille persone e ognuno di noi è protagonista di un lavoro unico. Ognuno di noi è parte fondamentale dell'intero ciclo dell'alluminio. Amiamo la materia prima che trasformiamo. L'alluminio, 100% riciclabile e versatile, è un patrimonio di opportunità a cui dedichiamo tutta la nostra professionalità. Perché con i nostri prodotti vogliamo fare la differenza per il mondo che ci circonda. Da materiali di riciclo e lingotti lavoriamo oltre 200.000 tonnellate di alluminio all'anno. Diamo forma così a una gamma ampia e diversificata di semi lavorati, ideali in moltissime applicazioni, esportando in più di 85 paesi. Diverse leghe, diversi spessori, tagli e finiture, ma sempre un'eccellenza unica. I nostri prodotti sono tanti, ma in tutti mettiamo la stessa attenzione, cura e precisione. Diamo spazio alle idee, sempre pronti a sviluppare processi all'avanguardia, investire in tecnologie di ultima generazione e progetti per fare sempre meglio. L'alluminio è il metallo del futuro e ci spinge a pensare oltre, per diffondere le sue potenzialità e promuovere una produzione sempre più sostenibile in tanti settori. Perché siamo quello che facciamo. Valorizziamo l'ecosostenibilità dell'alluminio e lavoriamo con attenzione per risparmiare energia e promuovere fonti rinnovabili. We are Profil Glass. We are Aluminium.